ben ritrovati di nuovo su review andiamo a vedere insieme questa borraccia dell'anal gene acquistata su amazon ad un prezzo veramente basso di 11 euro un litro e mezzo la sua capienza l'ho acquistata essenzialmente per le escursioni in montagna ad abbinare ad una borraccia da 500 ml quindi da portarmi dietro un fabbisogno di acqua di due litri e devo dire che l'ho scelta rispetto ad altre borracce per comunque il marchio che è noto per i materiali che sono veramente leggeri si tratta di una plastica bp afri e quindi a differenza di un vetro che invece pesa un po di più o dell'acciaio borraccia in acciaio che sinceramente non mi fanno impazzire se non per tenere dentro magari l'acqua calda in quel caso ok qua devo dire che adesso andiamo a vederla anche insieme utile il fatto della misurazione scritta quindi anche se dovete magari far preparare del cibo eccetera e avete bisogno di un quantitativo spesso nei cimili o filizzati ecco qua potete anche misurare il quantitativo di acqua e come vedete qua c'è anche l'etichetta dove vi dicevo bp afri e si può anche lavare volendo in vastoviglie dishwasher safe made in usa si può usare secondo me anche per chi fa in palestra appunto per portarsi dietro acqua il tappo si svita semplicemente comodo che è assicurato in questo modo come vedete anche una pellicola protettiva che poi va rimossa e la capienza del della bocca diciamo è anche abbastanza larga diciamo siamo a 5,5 centimetri di bocca dimensioni della borraccia senza tappo 28 col tappo vabbè poi si va a richiudere quindi siamo comunque lì e abbiamo qua dovrebbe esserci anche se si toglie questa parte la possibilità di attaccare il tubicino per bere direttamente ma non sono sicuro e niente comodo soprattutto è fatto se magari dovete riempirla con della neve per andare a bere quindi c'è la bocca anche più grande devo dire che il peso è contenuto visto che appunto di plastica andiamo a vederlo insieme 204 grammi come vedete e il materiale appare anche molto resistente secondo me quindi è un prodotto ideale per chi va a fare trekking e palestra comunque più si vuole portare qualcosa di leggero e disponibile ripeto in diversi colori però io ho preferito prendere questa che con 11 euro è carina anche visivamente e secondo me ci sta la bocca ovviamente è un po' larga ma è come bere alla fine all'interno di un bicchiere se vedete quindi per me non costituisce comunque un problema link in descrizione di amazon fatemi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale per altre video review